Per Campus Wave Radio ci troviamo al Festival della Comunicazione 2019 con Severino Salvemini. Oggi parlerà dei film preferiti delle persone che ha intervistato e soprattutto di questo bellissimo libro che tengo in mano. Ci puoi dire qualcosa di più? Abbiamo intervistato più di 200 personaggi famosi, noti, di tutte le professioni, politici, sportivi, attori, imprenditori, relativamente ai film che hanno preferito durante la vita, cioè quelli che hanno segnato la loro vita. Non stiamo parlando della storia del cinema ma di quelli che effettivamente li hanno toccati da quando hanno cominciato ad andare al cinema e ognuno aveva come compito quello di indicare 10 film e poi dopo quello di commentare il film preferito tra questi 10. Questi sono stati raccolti, il libro è a disposizione e quindi avremo la possibilità di capire in un certo senso un po' qual è la hit parade del cinema per questa nomenclatura. Quindi possiamo anche chiederle qual è il suo film preferito, il film che l'ha segnato di più? Il mio film preferito, il primo che io cito nella mia scaletta, è In the mood for love che però non è presente nel hit parade perché è un film un po' particolare, è un film orientale fatto in un certo modo. Lei oggi appunto farà un intervento con Cinzia Leone che è una scrittrice che ultimamente ha scritto un libro dove le protagoniste sono tre donne. Cosa pensa appunto di questo libro che ha scritto la sua collega? È un libro molto molto bello, molto impegnativo, di narrativa seria, cioè in un momento in cui è abbastanza difficile trovare dei libri scritti bene, è un libro scritto bene con un percorso che è un percorso che in un certo senso tocca tutto il secolo scorso e che inviterei a leggere. La ringrazio e le auguro buona permanenza a Camoglie e buon festival. Grazie. Grazie a tutti.